Una seduta rovente non soltanto per le bollenti temperature estive. È stato un incontro intenso quello tenuto ieri sera nell'aula consigliare del comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Rifiuti, iucche, ospedale, le tematiche che hanno tenuto banco e sulle quali hanno discusso i 26 consiglieri presenti insieme al sindaco Roberto Materia e dalla sua giunta al completo. In materia di rifiuti il consiglio ha approvato l'aumento del 46 per cento per il servizio di raccolta e smaltimento pronunciandosi sulle delibere relative a piano dei costi e aliquote. Bocciati gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione avanti confiducia centrosinistra bene comune e megafono che erano stati presentati allo scopo di specifiche riduzioni per nuclei familiari numerosi o disagiati. Degli emendamenti è stato approvato soltanto quello relativo alla riduzione dei costi per la raccolta differenziata. Secondo l'opposizione invece con l'accoglimento degli emendamenti si sarebbe arrivati ad un aumento del 36 per cento invece che del 46 per cento. Proprio per questo la stessa opposizione attraverso una nota ritiene che il piano necessitava una più attenta e dettagliata analisi pungendo la maggioranza e tacciandola di pensare più a continuare ad attaccare la passata amministrazione piuttosto che approfondire eventuali correzioni. In merito alla questione ospedale invece il consigliere Giuseppe Saia ha chiesto al sindaco Materia di vigilare costantemente per evitare lo scempio del passato e fare in modo che vengano rispettati gli impegni presi dal manager dell'aspaga Etano Sirna nel corso dell'incontro con i primi cittadini di Milazzo e Barcellona. Lo stesso Roberto Materia ha proposto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere sul tema della sanità.